A posto, prima kill ho fatta Bello a tutti ragazzi sono Giacomo e bentornati in questo nuovissimo video ragazzi Oggi ragazzi giocheremo a Call of Duty Warzone ma speciale di oggi non giocheremo a Battle Royale come qua Ma giocheremo a Pallage Hunt Trio che praticamente devi sempre in battaglia royale ma devi prendere più soldi E arrivare a un milione credo, attiviamo non tanto vi parlo, e arrivare a un milione di euro Cioè devi recuperare i soldi, devi uccidere sempre i tuoi nemici E' un po' più divertente perché quando muori hai 20 secondi, dopo 20 secondi puoi andare direttamente a rigiocare Questo è il fatto che è più bello che anche se muori puoi rigiocare dopo 20 secondi Ovviamente bisogna cercare di prendere più soldi Quindi Boboli Cianci ci vediamo direttamente in gioco Ok ragazzi ora vediamo dove andare Io vorrei andare molto qua a TV Station Vedi ragazzi noi siamo a zero, dovevo arrivare a un milione e prendere più soldi possibili Quindi ora arriviamo a TV Station e salteremo là perché là ci sono belle armi Che poi alla fine ci sono anche i... Via, ci sono anche scegliere voi già la vostra arma Vedi qua, e poi c'è No vabbè no l'ho tirato di... no vabbè adesso è assurdo Per poco non l'avrei ucciso Vabbè ragazzi tanto possiamo... tra 20 secondi ripartiamo E questo è, questo è il bello del gioco Cecchino Dove cazzo stava? Eh vabbè è assurdo Ok allora sapevo che là sta un cecchino Ragazzi questo è brutto perché la gente poi stia nei cecchini capito? Quindi è quello Allora sai che faccio io? Metto un attimo qua Ok 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 Alla prossima Sì Bastardo E questo è bello capito Ok allora Sì Perchè non... Damm... Soldati in me in approche Sì 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 No Bastardo maledetto Sì 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 Ok Ok Bastardo Missione Per 1380 euro Aveva fatto schifo però Aspetto Ragazzi Questo video Finisce qua Spero che Questo Questa Tipologia di gioco plan Mi piace Che a tre Mi piace Continueremo la serie Su questo Tipologia di recuperare i soldi Come vi ho spiegato Praticamente Purtroppo Qual è Purtroppo Qual è che Qui tanto pure che muore Alla fine Rivivi fra 20 secondi Quindi la gente che fa Diventa molto Sui cecchini Perché vedi Comunque qua la gente Deve andare a trovare i soldi Deve andare a trovare molto Quindi Esce subito Sui balconi Quindi ecco Perché c'erano molti cecchini E io ho preso Dall'inforia Dai nervi Ho detto vabbè Allora ragazzi che ti dico Mi metto anch'io cecchino E buonanotte E ho fatto un po' E un po' Però più che altro cecchino Aveva fatto tre chiliche Per rincominciare Se Dicendo come ricominciare Rivedetevi il video Che ho fatto La scorsa volta Quindi ragazzi Ci vedremo Sabato Con un nuovo video E anche domenica Quindi Anzi no Credo che venerdì Sì sì Questa weekend Perché ci vedremo Venerdì Sabato E domenica Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre lasciate un like Se il video per il canone Non lo avete fatto Spollisciate come non mai Quindi ragazzi Da Giacchiamo tutto Beh ragazzi Ciao Ciao Ciao